E che ci fai lì? Dovevo fare lo spot! Infatti, chi acquista adesso può avere in regalo un televisore 3D! Guarda, anche le offerte sono in 3D! Scegliete presto, perché da Mobili Amiga sono solo fino a dicembre e live ancora al 20%! E poi 48 mesi a tasso 0, 60 mesi, con prima rata a maggio e senza conto! E avrai anche uno di questi regali! Oppure un televisore 3D! Belli questi occhiali, ma non sono quelli che ti ho regalato io! E no, questi li ho presi qui! Da Mobili Amiga solo c'è un nuovo box tutto dedicato agli occhiali! Guarda, guarda! Vieni a vedere le nuove offerte 3D di Mobili Amiga store a Caserta Sud e a Salerno Est!